Cercando di risolverle il problema con il terminale. Allora, vediamo se riesce a votare la deputata Savino. Allora, vediamo se riesce a votare la deputata Savino. Sono state accettate, quindi vado al 202 Ciprini, parere è contrario e chiede di parlare. Prego, deputata. Caro Governo e cara maggioranza, questo ODG impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa anche di tipo normativo finalizzata all'utilizzazione delle graduatorie vigenti e all'assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici, attingendo dalle graduatorie vigenti ed approvate. Quindi, vincitori di concorso, ultimo atto. Confermate che dei 4.140 vincitori di concorso non ve ne frega niente? E allora perché li avete presi per il posteriore? Prima con la legge 125 del 2013 e poi con la legge 124 del 2015? Le vostre leggi. Che ci fate con le vostre leggi? Gli aeroplanini di carta? Allora, deputato Rizzetto, prego. Sì, è per sottoscrivere il Presidente e confermare questo ordine del giorno. Sì, grazie. Allora, Cozzolino, voleva parlare? Sottoscrivo anche io le ordine del giorno. Va bene, allora nessuno chiede di intervenire, dichiaro aperta la votazione. Sottoscrivo anche io le ordine del giorno. Tutti hanno votato, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 85 e contrari 2.